Eccoci all'interno di 2008 e all'interno della Raffaele Capetanelli di Iesi. Ale, eccoci. Ciao Diego. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, facciamo una panoramica degli interni del City Crossover Peugeot 2008? Sì, soffermiamoci bene sugli interni perché secondo me sono un punto di forza in quest'auto, perché già da una panoramica complessiva puoi far notare l'accuratezza, la qualità dei materiali utilizzati. Anche la diversità, il mix di materiali perché poi c'è veramente di tutto, pelle, vedo anche la lavorazione qui cofrata. Sì, similcarbonio. Sì, similcarbonio, insomma, degli interni con quelli mescolati a quelli più tradizionali, le laccature, le cromature, insomma, c'è di tutto. C'è un po' di tutto. Sì, sì. Allora, partiamo, siamo in posizione guida, partiamo dal volante. Sì, posso vedere un attimo come ti posizioni. Allora, il volante così come avevamo già visto sul 208, riprende le dimensioni, quindi volante di dimensioni ridotte rispetto al normale, grande maneggevolezza, praticità, facilità di guida, racchiude al suo interno i comandi al volante che riguardano poi il controllo del display, questo qui dove troviamo computer di bordo, radio, bluetooth, lettore multimediale, foto, audio, e eventualmente in opzione navigazione, quindi con le mappe già precaricate all'interno. Il volante si può regolare sia in altezza, come sto facendo vedere, che in profondità, quindi per trovare, diciamo, la più ottimale posizione di guida. Allora, al di sopra del volante troviamo il cruscotto, ok, adesso facciamo vedere che comprende i contagiri, i contachilometri, e poi c'è anche qui un display centrale dove possiamo vedere informazioni di guida. Spostandoci verso l'interno troviamo il touchscreen, allora questo è un monitor che, come dicevo, comprende all'interno diverse funzioni, è completamente touchscreen, quindi si può comandare semplicemente toccando lo schermo. Sì, è un dito, 7 pollici a colori, quindi comunque anche bello esteticamente a vedersi, sicuramente arricchisce da pregio all'auto. Sotto questa parte troviamo il controllo del clima, che su questa versione, che lo possiamo dire, è l'allure, quella più accessoriata, è automatico, bizona, con il display digitale che indica le temperature. Sotto, se riusciamo a farlo vedere, ci abbiamo due ingressi USB, un ingresso audio jack e una presa a 12V. Qua abbiamo la leva del cambio, in questo caso ha 5 marce, c'è anche la possibilità del 6 marce su altre versioni, e anche eventualmente col cambio robotizzato automatico. Questa manopolina qui è una delle cose più interessanti, perché è l'interfaccia del dispositivo grip control. Ora, che cos'è il grip control? Diciamo che è la funzionalità che può far fare il salto di qualità all'auto, cioè la può trasformare da un'auto che ha l'aspetto di un SUV a, se vogliamo, un SUV vero e proprio, perché con questo dispositivo, diciamo che è un'evoluzione del normale antipattinamento, abbiamo la possibilità di muoverci in modo agevole e sicuro su quasi tutti i tipi di terreno. Le modalità che comprende sono, ovviamente, quella normale stradale, che sarebbe questa, poi abbiamo la neve o ghiaccio, questo qui che lo chiamano all-terrain, cioè tutti i terreni, quindi sterrati, fango, eccetera, la modalità sabbia, quindi su, anche, ovviamente, adattata a terreni un po' più secchi, un po' più aridi, e poi c'è la funzionalità di disattivazione di tutto quanto quello che è il controllo elettronico. Ok. Ok, in questo modo noi andiamo con la manopolina che è rotativa a dire all'auto su quale terreno ci stiamo muovendo, poi l'auto automaticamente da sola gestisce la trazione sempre e solo sulle due rotte motrici, quindi non abbiamo distribuzione avanti e dietro, non abbiamo i pesi che ne comporta, non abbiamo nessun tipo di impegno meccanico, ma soltanto un dispositivo elettronico che però ci aiuta sensibilmente nella trazione su tutti i tipi di terreno. di terreno, quindi non diventa un 4x4? No, assolutamente no. È un 2x4 gestito elettronicamente a seconda del tipo di terreno che incontra. Sì, possiamo dire anche che è un 2x4 che va nel 80-90% degli utilizzi medi di una persona dove andrebbe con un 4x4. Esatto, esatto. Ok, poi dunque proseguendo troviamo, questo è il freno a mano, è particolare, stile aereo, lo hanno fatto, quindi molto carino. Poi qui abbiamo un piccolo vano portaoggetti qua nel tunnel centrale e poi già che ci siamo fai vedere le finiture dei tessuti che sono di serie sempre su questa versione Allure, misto pelle e tessuto, quindi la bellezza della pelle con la praticità del tessuto all'interno. Gatto. Ok? Anche per la traspirazione, insomma, per evitare, insomma, cioè dare il massimo comfort. Esatto. Ok. Poi è interessante far vedere il tetto. Ok, eccomi qua. Ok, in quanto il tetto, a parte la sagomatura che ha, ma comprende anche delle inserzioni, delle incisioni, queste sono incisioni fatte al laser e sono fatte per ospitare al di sotto delle luci interne a LED molto tenue, ovviamente, perché non devono infastidire, ma che a luce accese di notte creano un'atmosfera luminosa particolare e molto gradevole. Adesso è giorno non possiamo farlo vedere. Adesso è giorno ovviamente non lo possiamo far apprezzare, però... Ci ripromettiamo di farlo... Di notte. Vedere. Ok. Poi volendo in opzione, invece, il tetto può essere anche in cristallo, quindi panoramico, per una maggiore luminosità. Vedo dietro i tre posti posteriori. Sì, i tre posti posteriori. Ognuno con il proprio poggio a testa. Il lunotto dietro, abbastanza ampio. Sì, come vedi, non sembra di stare all'interno di una macchina di poco più di 4 metri. Sembra di stare all'interno di una macchina più grande e questa è una caratteristica, diciamo, molto importante, secondo me, perché in dimensioni contenute, appunto, esterne, riusciamo a avere dentro veramente una grande abitabilità che, per trovarla, dobbiamo salire su alto di un segmento superiore. Con tutto l'impegno che comporta. Ovviamente, ovviamente. Chiaro, chiaro. Da qui, City, crossover. Esatto. Da qui, City, crossover. Crossover. Bene, bene. Ale, mi sembra che abbiamo affrontato, insomma, quelle che sono le caratteristiche un po' più particolari. Sì, abbiamo fatto una panoramica. Una panoramica, poi ovviamente l'invito per tutti quanti di venirci a trovare qui in sede. Noi stiamo qui in Via Gallo d'Oro, 63. Potete vederlo, si può provare. Quindi toccare con mano quello che adesso, a grandi linee, spero siamo riusciti a far percepire. Va bene, benissimo. Ale, grazie mille. Grazie a te. A presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie.